La BCC dei Comuni Cilentani per i Piani di Sviluppo Rurale della Regione Campania PSR, i nuovi bandi PSR 2014-2020 215 milioni destinati all'agricoltura e alle aree rurali 1,8 miliardi di euro la dotazione finanziaria totale del programma destinati a soggetti pubblici e privati finanziamenti per diversificazione delle imprese agricole trasferimento di conoscenze qualità dei prodotti agricoli e alimentari riduzione gas serra prevenzione danni da calamità naturali avviamento attività extraagricole miglioramento della vita dei villaggi rurali sviluppo delle aree forestali costituzioni di associazioni e organizzazioni di produttori cooperazione riqualificazione dei borghi rurali l'Europa immessa nelle zone rurali non mancare al convegno di presentazione venerdì 6 ottobre alle ore 18 ad Altavilla Silentina presso l'auditorium comunale PSR un'opportunità di sviluppo per il comparto agricolo e le aree interne per maggiori informazioni visita il sito internet www.bcccomunicilentani.it slash psr